Fa riconoscere tutti i sindaci perché cambiando questi, perché Capannone le ha diversi, Porcai ha diversi, Massarosa le ha diversi, ma la Repubblica è la medesima, siamo tutti parte dello stesso paese, d'accordo? E tutti i sindaci hanno la faccia di colore, si riconoscono per questo. L'abbiamo messa anche qui perché è il segno che facciamo qualcosa che non serve per uno soltanto, ma serve per tutti noi, in questo caso per tutti voi, d'accordo? Quindi è qualcosa che è utile per l'intera comunità. Allora, c'è qualcuno che vuole fare domande prima di sapere qualcosa? Vieni, vieni. Vieni qua. Grazie.